Gli accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine, a cominciare da quelli che dovranno stabilire innanzitutto l'identità dell'uomo trovato senza vita in un rio vicino a Campo San Polo, a Venezia. Il cadavere ritrovato in ottata appartiene ad un uomo apparentemente di mezza età, privo di documenti e con addosso un costume da bagno. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma le circostanze, in una notte contraddistinta dai festeggiamenti per la vittoria della Nazionale di Calcio ai campionati europei, che a Venezia è stata celebrata anche con diversi tuffi in canale, porta a non escludere del tutto l'ipotesi che il decesso possa essere ricondotto ai festeggiamenti. Ciò non esclude comunque che la caduta in canale possa essere stata accidentale, un incidente casuale dall'epilogo tragico. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti delle volanti lagunari. Il corpo non presentava segni di violenza, cosa che quindi porterebbe ad escludere un'aggressione. Sarà comunque disposta l'autopsia per capire le cause del decesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.